oggi abbiamo questa lexus per applicazione ppf sui fari e qui abbiamo queste due spalette da riverniciare sono molto brutte ragazzi questo faro è già pronto adesso applichiamo l'altro qui prepariamo la vernice per la Lexus ok Grazie a tutti Ragazzi abbiamo finito la Lexus Fari, logo, protezione con PPF E qui abbiamo sistemato queste due spalette Grazie a tutti